Eder Parisi è stata ospite di Verissimo Domenica 8 settembre, dove ha raccontato del suo nuovo capitolo di vita, definendolo un periodo meraviglioso grazie alla serenità ritrovata attraverso la spiritualità. La showgirl e cantante, statunitense di nascita ma ormai italiana d'adozione, ha rivelato «sono felice di diventare nonna». Sua figlia Jacqueline, con cui i rapporti sono stati difficili per molti anni, è in attesa del suo primo figlio con il cantautore ultimo. Ripercorrendo il passato, la Parisi ha ricordato il momento in cui divenne sua madre, quando è nata avevo 40 anni, e pensai «questa è la mia vita». Ho messo da parte la carriera, lasciando tutto. La gente pensava che fossi pazza, lavoravo tanto, ma volevo fare la mamma. Ha poi aggiunto, con entusiasmo, «divento nonna» e pensandoci, quando ho conosciuto Umberto, sapevo già che volevo diventare madre con lui. La conversazione si è poi spostata sulle polemiche nate dopo una sua intervista a Belve, alla quale Jacqueline aveva risposto pubblicamente. Eder ha chiarito la sua posizione, «non è la nonna la protagonista, i veri protagonisti sono i genitori e il bambino che sta per nascere. I giornali devono smetterla di diffondere bugie e gli influencer di attribuirmi parole che non ho mai detto. I miei avvocati stanno lavorando, ma io comincio a stancarmi». Ha concluso ribadendo la sua gioia per l'imminente nascita del nipote, «non vedo l'ora di conoscerlo». Perché mai non dovrei volerlo incontrare? Mi piacerebbe che mi chiamasse Nalacriloo. Le persone non dovrebbero credere alle falsità dei media. Riguardo la reazione di Jacqueline, che l'anno scorso aveva pubblicato un post su Instagram accusandola di essere assente. La Parisi ha spiegato, «mi dispiace se ci è rimasta male per quello che non ho detto. Lei ha scelto un'altra strada, parlando sui social di cose che io non avrei detto. Forse non si rende conto del dolore che crea anche ad altre persone. Ma io sono diversa, non racconto quando e dove vedo i miei figli. Sogno un pranzo con tutti loro, mai dire mai». Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.